Ci sono momenti che attendi per tutta una vita. Poi arrivano febbre e congestione nasale a rovinare tutto. Da oggi c'è Vivin Duo. Da bere in acqua calda o fredda. Due azioni contro l'influenza. Combatte la febbre. Decongestiona rapidamente con effetto prolungato. Nuovo Vivin Duo febbre e congestione nasale. E ogni momento ritorna speciale.